Un vero e proprio terremoto giudiziario fa tremare il palazzo comunale di Ruvo, anche se dal municipio ostentano tranquillità. Il sostituto procuratore della Repubblica di Trani, Antonio Savasta, ha inviato 92 avvisi di conclusione delle indagini ad amministratori ed ex amministratori comunali, dirigenti, imprenditori, progettisti e proprietari dei suoli della vasta zona residenziale che sorge nei pressi del cimitero. Il sospetto è che le villette sarebbero sorte violando procedure e piani di lottizzazione. Nel mirino della procura ci sono quasi tutti i componenti dei consigli comunali degli ultimi anni, compresi l'ex sindaco Michela Estragapede e l'attuale primo cittadino Vito Nicola Ottombrini e tutti i consiglieri che hanno votato le delibere comunali che rivedevano i criteri edificatori degli immobili al centro dell'attenzione. Le accusi a vario titolo sono per abuso d'ufficio, falso e lottizzazione abusiva per fatti avvenuti tra il 2008 e il 2012. Dal palazzo comunale rigettano però le accuse della magistratura. Il sindaco Ottombrini ha affidato il suo pensiero a un comunicato. Una prima veloce lettura delle carte mi consente di mantenere massima serenità, certo che tutti noi abbiamo sempre operato nella perfetta correttezza e nell'interesse della comunità. Garantisco la massima collaborazione alla magistratura, continua il sindaco, per favorire l'accertamento dei fatti. Alla non giovane età di 67 anni proverò per la prima volta l'esperienza di divercare la porta di un tribunale, ma più che il dato personale ci sono elementi politici che mi sembra doveroso puntualizzare. Innanzitutto non posso non notare come, ancora una volta, la complessa e tormentata questione delle lottizzazioni derivanti dal PRG è motivo di danno e di angoscia per la città di Ruvo. In secondo luogo, in considerazione del fatto che tra i destinatari degli avvisi ci sono i nomi di chi ha guidato Ruvo negli ultimi vent'anni, è di ordine morale e riguarda l'onore di tutto un paese. A miei cittadini voglio dire con forza che non consentirò a nessuno di sostenere che per vent'anni i ruvesi hanno affidato il proprio paese solo e sempre ad amministratori disonesti.